Le bretoni non sono più di moda, cara Susanne. Oggi hanno tutti una spagnola a servizio, non è così, Colette, cara? L'ascensore per i padroni. La nostra vecchia domestica prendeva 250 franchi, così ho pensato che... 400 franchi. 400 franchi! Si è ragionevole! Abre! Dolores! Carmen! Teresa! Lei è perfetta, un vero angelo del focolare. Avete assunto una spagnola? Esattamente! E vedete anche di trattarla bene! Venga, signor, le voglio far vedere una cosa. L'avverto, il cesso è ostruito. Il jardin. Il jardin. Il jamón. Il jamón. Di solito non ti interessi mai di nessuno e poi di colpo ti appassioni per delle serve spagnole. Buongiorno, signor Gilbert! Buongiorno! A lui piace ciò che brilla, le parigine, quelle eleganti. Ma sono sbagliata. Non è un padrone come gli altri. Ma ti ho già detto che ho cenato con le spagnole del sesto piano! Smettila di dire sciocchezze! Non lo capisco secondo te che sta succedendo qualcosa! Buongiorno, signore. I padroni devono stare insieme ai padroni. Per la prima volta ho una camera solo per me. Se sapesse come mi sento libero.